Maxi operazione del WWF Italia Guardie Sezione Provinciale di Salerno, un maxi sequestro di cardellini e di altri volatili protetti. Guardate in che situazione abbiamo trovato questi poveri uccellini e quanti ne sono. È difficile anche per noi cercare di contarli in qualche modo ed elencarli. Ci vorranno ore e ore. Maxi operazione, ricordiamo, delle guardie del WWF Italia, del Sezione Provinciale di Salerno. Sono tanti ma tanti, guardate, centinaia, centinaia di piccoli cardellini. Ovviamente tutti illegalmente detenuti e catturati. Purtroppo tanti sono anche deceduti. WWF Italia, Sezione Provinciale di Salerno, nucleo guardie. Maxi operazione di sequestro di cardellini.